Buongiorno a tutti e ben svegliati in questo martedì 20 dicembre 2011. Il giorno in cui la Chiesa festeggia San Liberato, un console, un nobile che poi ha deciso di convertirsi al cristianesimo, ma ovviamente mancano cinque giorni al Natale e allora oggi uno dei temi di questa trasmissione sarà proprio il Natale, lo spirito natalizio e come si vivrà il Natale. Verrà, ve lo anticipo subito, il Vescovo di Teramo, Monsignor Michele Seccia, per dare un po' il messaggio natalizio a tutti i teramani qui da Teleponte. Noi però andiamo con ordine perché ovviamente dobbiamo vedere innanzitutto che tempo farà oggi, verremo se arriverà la neve o se sarà posticipata la prima nevicata in città e poi andremo anche a leggere le notizie principali dei quotidiani di oggi. Con ordine meteoteramo.it, le previsioni meteo e poi rassegna stampa. Venti moderati nord-occidentali in graduale attenuazione, mari mossi o molto mossi a largo. Bene, eccoci alla nostra rassegna stampa, partiamo dal quotidiano Il Centro, titolo di apertura della prima pagina, verrebbe da dire una buona notizia, la regione aumenta l'IRPEF. Ovviamente era una battuta, passerà dall'1,4 all'1,73%, ai comuni tagli del 10%, sale la pressione fiscale in Abruzzo, la manovra prevista nella finanziaria in corso di approvazione. La truffa del pallone, l'articolo di fondo di Vittorio Emiliani con gli arresti di Cristiano Doni, di Sartorre e di altri calciatori. E poi la foto sfila la reliquia di San Berardo, teramo in centro la processione del patrono della città. Ieri sono state portate in processione le reliquie di San Berardo, poi ovviamente ne parleremo. Di spalla torna il terremoto, due scosse in un'ora tra Torricella e Campli, torna dunque l'allarme in città con queste scosse e molti l'avranno sentite anche nelle notti passate. E poi l'Aquila, la mafia negli appalti, quattro arresti, i clan volevano entrare nei lavori privati di ricostruzione. La neve in Abruzzo, riaprono gli impianti sciistici e i cittadini preoccupati perché il vibrato è ostruito, questo a Martinsicuro, nell'assemblea Villarosa. Politici sotto accusa, a piede pagina tasse comunali, dalla stancata escluse solo le famiglie più povere. Teramo oggi il voto sugli aumenti IRPEF non paga chi ha un reddito inferiore ai 10 mila euro. All'interno portano ovuli di droga in pancia, arrestati in tre e poi salvo il posto dei 40 lavoratori della Soggesa. Andiamo all'interno alle pagine della cronaca, la prima di Teramo è dedicata ovviamente al terremoto e poi all'inaugurazione del megaparcheggio dell'ospedale di ieri. Terremoto, altre due scosse nel Teramano, continua l'emergenza sisma, lo sciame riparte dopo due giorni di tregua. L'epicentro sempre fra Torricella e Campli e qui c'è una piantina dove ovviamente la cartina dove c'è indicato l'epicentro e poi la sequenza delle scosse con la profondità e l'orario. Le ultime due di ieri pomeriggio alle 15.17 alle 16.31 2.3, tutte e due della stessa intensità. Grosso Pino crolla per il vento e schiaccia due automobili, è successo a Martinsicuro, questa foto testimonia i danni del Pino che è caduto. Megaparcheggio a 70 centesimi l'ora, la Asle inaugura a metà opera, 500 posti auto davanti all'ospedale Mazzini, chiodi e venturoni al taglio del nastro e il manager Varrassi può essere utilizzato anche in caso di sisma. E ci sono le foto dell'inaugurazione. La denuncia, ma per i dipendenti Asle un salasso da 1.300 euro, era una nota della CGL che poi lo stesso Giustino Varrassi ieri ha in pratica smentito nel corso della nostra trasmissione, quattro giorni, quando ha detto che per i dipendenti dell'Asle ci saranno abbonamenti particolari a 15 euro al mese. L'iperbarico rimane inutilizzato, la struttura di Sant'Atto è ferma da anni, il manager si impegna, lo apro entro un anno. Ancora quartieri a pezzi, annunciati 7 milioni, il sindaco, nuovi impianti sportivi, bioparco e centro sociale a Colleparco, interventi della Giunta con i fondi Pisu, anche a Colle Atterrato e per la nuova fermata ferroviaria a Piano Daccio. Al Pascal parla l'AM, premie più bravi, è successo questo qualche giorno fa, e poi rifondazione, Palermo diventa segretario a 25 anni, si tratta di Marco Palermo. Il Rotary aiuta la mensa dei poveri, festa natalizia del club, annunciato l'ingresso di Di Nardo, la cronaca, lo spaccio in città, 100 ovuli di droga nella pancia, tre arresti, traffico di eroina da Napoli, intrappola personaggi terramani, gli indagati sono 16. agricoltori, De Fabritis lascia la guida della CIA, e poi l'omicidio di Melania Rea, che ci sta sempre bene, Parolisi, slitta la conclusione dell'inchiesta, i PM a Roma, ma gli ultimi esami dei RIS non sono ancora pronti. A piede pagina incontro guardiani giovani industriali, gli imprenditori chiedono aiuto all'assessore provinciale al lavoro, vedete la foto con l'assessore provinciale Eva Guardiani e Luca Verdecchia, presidente dei giovani industriali. E poi IRPEF escluso, chi ha meno di 10 mila euro. Oggi il voto sugli aumenti, oggi infatti c'è il Consiglio Comunale, che poi potrete seguire su Teleponte, Brucchi evita in extremis la spaccatura della maggioranza. Concorsone in comune, pronti ricorsi contro la commissione, festa del patrono, sfila la processione di San Berardo, vedete la foto del rientro della reliquia del santo patrono all'interno del Duomo, gara tra pizzaioli a Bisenti. Passiamo alle pagine dedicate alla provincia, Val Vibrata, Vibrata Ostruito, accuse ai politici, nella follata assemblea a Villa Rosa, i cittadini contestano, Giovannelli. E poi Nereto, rifiuti zero, il PD lancia la campagna, il partito propone di potenziare al massimo il riciclo. Il Corecom sul segnale TV, ecco come ridurre i disagi, ma ieri c'è stato un incontro a Santomero e forse nei prossimi giorni potremo superare anche questa difficoltà. Droga nascosta in auto, denunciato un giovane a Martinsicuro, cocaina sotto il sedile. Rapina in un negozio di utensili, Campli, Larro, tira un tubo al proprietario. Tortoreto, accuse del PD sul corso per badanti, termocoperta a fuoco, paura a Sant'Egidio. Poggio Morello, festa di Santa Lucia, c'è la foto che testimonia momenti di festa a Poggio Morello. E poi Giulianova, salvi 40 lavoratori di Sogesa, saranno assorbiti dall'ecologica Sangro, nuovo gestore dei rifiuti. Il passaggio avverrà oggi, c'è l'accordo con i vertici della società, forse pagati per Natale gli stipendi di novembre. Una palla di pietra di velta è gettata accanto ai rifiuti. In piazza Buozzi continuano i danneggiamenti agli arredi pubblici. Il parco diventa discarica. Sempre a Giulianova, rifiuti e vecchie TV nell'area verde di salita a Montegrappa. Nonostante le segnalazioni, il giardino frequentato dai vandali è ancora sporco. Parcheggi a pagamento in arrivo in via Galilei e poi scritte e colla nelle serrature della sede della banca di Teramo, appena inaugurata. È la pagina della zona sud della provincia, il PD con Pavone. Siamo a Roseto, giusto rifare i confini della riserva. Ma il perimetro che è stato votato non va bene. Ne stiamo parlando ovviamente del caso Borsacchio. Vallescura va in regione per la variante al PRG che prevede edifici in collina. Gli ambientalisti è uno scempio. Questo a Silvi e ancora a Roseto riconsegnano portafogli sbarrito. Roseto, buona azione di due operai del comune. Roseto, tornano i consigli di quartiere. L'amministrazione li istituisce dopo 30 anni di assenza. Individuate otto zone. Entro febbraio la nomina dei rappresentanti. Andiamo adesso a vedere e soprattutto a leggere quello che propone le pagine dello sport. Partiamo dal Giulianova. Giulianova ancora polemiche sul pari con il Catanzaro. Non si placa la rabbia dei tifosi. E per fortuna che c'è la sosta. E poi il Teramo. Teramo, il primo K.O. è già dimenticato. La Tessa risale ancora in serie D. Date e numeri. Si riparte l'8 gennaio. Masini, re dei bomber. Cologna e Capistrello in eccellenza. Attacco agli arbitri. Dure accuse per gli errori di domenica. La replica di Rolomonti. Chi sbaglia paga. E il basket. La notizia che riporta il centro. La beffa di Johnson. Teramo lo taglia. E lui gioca in NBA. Il contratto era stato rescisso per il lungo infortunio. Ma lui ha firmato con New Orleans. E c'è anche una foto di Trey Johnson in partita con gli Ornets. Ma a Caserta una vittoria gettata agli Ortiga. E si continua a cercare una guardia titolare. Ne se ne parlerà ovviamente. Ampiamente. Questa sera nel corso della trasmissione basket e basket. La città. L'apertura. Inaugurato. L'ospedal parking. Disponibili oltre 500 dei mille posti totali. A giugno sarà tutto utilizzabile. Ma intanto la CGL solleva il caso della tariffa oraria. Che pagheranno medici e infermieri. E chiede alla ASLA di studiare una convenzione scontata. E sappiamo che questo è stato già fatto. Compravano droga all'ingrosso. La ingoiavano e la rivendevano. La notizia di cronaca. E poi l'esclusiva della città. L'altra casta. Due incredibili storie di pubblici dipendenti. Che usano la politica per cercare di aggiustarsi la poltrona. C'è il dipendente che cerca di interferire con le scelte dell'amministrazione. Rivendicando diritti derivanti dall'aver fatto campagna elettorale. E c'è il funzionario che essendosi candidato col centrodestra. Ritiene di aver diritto ad un aumento di stipendio per meriti politici. Tutto succede tra i corridoi della provincia di Teramo. Ed è un'inchiesta. Questa portata avanti dalla città. La leggeremo poi all'interno del giornale. Le pagine interne. Abruzzo. Le mani dell'andrangheta sulla ricostruzione. La notizia di cronaca regionale. Arrestate quattro persone per infiltrazioni mafiose. Tra loro un noto imprenditore dell'Aquila. Ancora le pagine interne. L'assessore ha i risparmi a Teramo per reagire ai nuovi tagli. Arriva allo spending review. Ma intanto si esentano dall'addizionale dell'IRPEF i bassi redditi. Concorsone. Siamo disponibili per chiunque farà ricorso. I sindacati replicano e attaccano. E poi ecco qui l'altra casta. Un documento esclusivo a firma del direttore Antonio D'Amore. Due incredibili storie come abbiamo letto di due dipendenti della provincia. Io sono il dipendente migliore della provincia. Dice uno. Se lo dice da solo allora forse è giusto crederci. E poi siccome il centrosinistra non mi ha aumentato lo stipendio mi sono candidato col centrodestra. Ora sono storie di tutti i giorni verrebbe da dire. La città ha trovato questo documento. Ci sono anche delle dichiarazioni. E allora vi invito a leggere questa inchiesta della città. E poi inaugurato l'ospedal parking. Le foto dell'inaugurazione del nuovo parcheggio dell'ospedale. Sicurezza assoluta. Negozi e bar. A giugno tutto aperto. Imprenditori coraggiosi. Pagheranno anche medici e infermieri. La CGL. Ma dovranno avere sconti. Ruba in un negozio. Ferisce il proprietario. Ma poi si costituisce il tutto a Campli. Da venerdì il comune potrà usare i primi 7,3 milioni dei fondi PISU. Andranno a finanziare lavori nei quartieri. E poi ancora la politica rifondazione e Palermo. Il segretario provinciale. E aprono nuovi negozi in centro. Tra i Tigli, via Capuani e il derby. Resistere alla crisi. Droga all'ingrosso a Secondigliano. Per venderla al minuto a Teramo. Tre teramani in manette per spaccio di eroina. Ascisce e metadone. Un anno di indagini. Dei carabinieri a cavallo di tre regioni. Cento persone sentite. Per portare la roba. La ingoiavano in bussolotti. La Teramo 47 mila euro per Teleton. E quanto è stato raccolto in città e in provincia. E poi vigili a Termoli. Per i due marinai. I sommozzatori di Teramo sono impegnati nelle ricerche. E il Rotary. Purtroppo uno dei cadaveri è stato ritrovato. Il Rotary festeggia il Natale col Vescovo. Dunque l'incontro. E poi il personaggio. Gianni Tribotti. 35 anni. Laureato a Parma. Costruttore di pifferi e zampogne. Nella pagina dedicata alla provincia. Partiamo dalla Val Vibrata. Rifiuti zero. Il PD detta la strategia. Riciclo e riuso. Discarica di Santomero da riaprire. Niente inceneritore. Per uscire dall'emergenza nel Teramano. Prende fuoco la termocoperta. Appartamento inagibile a Sant'Egidio alla Vibrata. Città territorio. Non autosufficienti. Approvato il piano locale. E poi pianta sabbatte sulle auto. In sosta. E cronaca cocaina in auto. Denunciato. 32enne. Giulia Nova. Operai Soggesa. Tutti riassunti. Tensione ieri in comune al vertice con la nuova affidataria. I nuovi contratti sono. A tempo determinato. Gli studenti incontrano l'Unione Europea. E poi trasporti i nuovi tagli di Renitalia. Siamo molto preoccupati. Nominati i membri del comitato che gestisce la banda musicale. Questo sempre a Giulia Nova. E poi due pagine. Speciale mare al porto di Giulia Nova. È venuto il momento di togliere gli ormeggi al futuro. Il progetto prevede la possibilità di arrivare al raddoppio dei posti barca attuali riservati al turismo. Si sposta di Pescherecci. Cresce il diporto. Roseto per il comune. Non esistiamo. È un'indagine da parte del quotidiano. La città. E poi Silvi, PRG in commissione regionale. Gli ambientalisti chiedono di intervenire. Tromba d'aria. Ditta danneggiata. Cellino Attanasio. E Roseto. Eidos raccoglie fondi per l'associazione contro la leucemia. Cultura e spettacoli. Gospel di Natale. Sono i tradizionali appuntamenti che ci sono in questo periodo. E poi lo sport. Teramo battuto ma non vinto. Prima sconfitta stagionale della Teramo Calcio. Ma c'è l'articolo che riguarda il basket. E c'è un interrogativo che si pone la città. E se il problema fosse Ramagli, il coach del Teramo, il parziale di 41 a 12 in 9 minuti, schianta Banca Tercas dopo un match da protagonista. È tutto per il quotidiano La Città. Passiamo al messaggero. L'apertura della prima pagina. Nrangheta, le mani sull'Aquila. Infiltrazioni criminali nella ricostruzione privata. Quattro arresti. Il post-sisma. In carcere anche l'imprenditore locale Biasini. L'accusa a concorso esterno in associazione. Mafiosa. Non ci sono notizie che riguardano Teramo in prima pagina. Allora andiamo direttamente alle pagine interne. Quelle locali. Ospedale. Il megaparcheggio. E realtà. Inaugurati i primi 585 posti auto. Prevista anche un'area di raccolta per le calamità. Accesso gratis fino al 31 dicembre. Poi costerà 70 centesimi l'ora. La CGL. Tariffe preoccupanti per i dipendenti. IRPEF. Esenzione totale per le famiglie sotto 10.000 euro. E l'operazione scacco matto allo spaccio di droga. Tre persone arrestate. 16 denunciate. Lo sciame. Lo sciame sismico. Terremoto. Ancora due scosse. Epicentro sui monti della Laga. Seconda pagina. Quella della provincia. Giulia Nova. Soggesa in crisi. Tensione a Grasciano. Ecologica Sangro. Anticiperà il pagamento degli stipendi alle maestranze. Avvio della liquidazione al consiglio di amministrazione del CIRSU. Arrivano i carabinieri. Accuse al vice sindaco. Campli. Botti al titolare di un negozio. Ha denunciato un marocchino. E poi ancora Giulia Nova. Demolizione in condominio. Chiesti danni per un milione. Martinsicuro. Cade un albero. Tragedia sfiorata. Il pino ha distrutto un'auto. E la pensilina degli autobus. Nessun ferito. Roseto. Riserva del Borsacchio. Scontro sul nuovo perimetro. Le pagine dello sport. Partiamo dal Giulia Nova. Giulia Nova. Un pari al veleno. I tifosi annunciano contestazione. C'è la foto di Tiziano De Patre. E poi Tercas. Il giorno più brutto. Fulse Polonara. Una sconfitta da non credere. Il pleiteramano è il proprio destino che quest'anno ci tocca soffrire. Dopo il caporo cambolesco di Caserta. La squadra è sotto shock. Il prossimo turno. Biancorossi nuovo in campo. Martedì 27 contro la CEA Roma. Ovviamente in casa. Il calcio. Cappellacci. Teramo non cambia niente. In Serie D dopo la prima sconfitta della stagione. Il tecnico fa sfoggio di serenità. E questa è la notizia che riguarda il Teramo Calcio. Vediamo questa prima parte con il quotidiano. Il tempo. L'apertura anche in questo caso. Le mani dell'Andrangheta sulla ricostruzione. Cosca Calabrese si infiltra nei cantieri per la riparazione dei condomini privati. Finisce in carcere anche un imprenditore del posto. Sequestrati beni per più di un milione di euro. Non ci sono notizie che riguardano Teramo. Allora andiamo direttamente alle pagine interne. Ecco la prima locale. Apre il maxi parcheggio dell'ospedale. Per ora 585 stalli per le auto. 48 per le moto. A pieno regime. Saranno oltre mille. Soddisfatto il presidente Chiodi. Veder concretizzati i frutti del proprio lavoro. È sempre bello. Grazie ai fondi PISU. Una nuova scuola. Impianti sportivi. E piazze. De seconda pagina. Scacco matto. Al giro di droga. Tre in carcere per spaccio. Sequestrati oltre 1800 bussolotti. Bussolotti nascosti in giardino sottoterra. E poi al barriatica preoccupa lo stato del torrente vibrata. Il comitato lancia l'SOS. Lo sport. Giulianova. Una paralisi difensiva che ha portato i giallorossi al primo pareggio in casa. È quello che riguarda il Giulianova. E poi andiamo avanti. Teramo campione d'inverno. Malancona si avvicina. Prima sconfitta stagionale per l'undici. Biancorosso. Canistro e Valdisangro brindano nei due derby. Ramagli non si può perdere così. Un finale assolutamente folle. Il Teramo ha perso testa e partita. Il giorno dopo la sconfitta il coach mette in campo tutta la sua amarezza. È tutto per questa prima parte della nostra rassegna stampa. Adesso linea la regia. Uno sguardo veloce alle prime pagine degli altri quotidiani. E poi sarà a ruota libera con Gustavo Bruno. Seconda parte della nostra rassegna stampa. La velocissima Corriere della Sera. L'aprile a titolo principale. Fornero reagisce e accusa contro di me il linguaggio di un brutto passato. Il ministro del welfare dopo la dura intervista di Camusso sul lavoro e articolo 18. E poi fuori dalla storia. La fine del dittatore non cancella le paure. Nord Corea è morto. Kim Jong-il. Ecco tutte le partite di A e B che siamo riusciti a truccare. I verbali del pentito. Ancora calcio scommesse. 17 ordini di arresto. C'è anche Cristiano Doni. La Repubblica. Fisco via al controllo dei conti correnti. Draghi ora liquiditale. Banche. Scontro Fornero. Sindacati sull'articolo 18. La Corea piange il suo tiranno. E poi calcio scommesso. La grande retata. 17 arresti. Doni tenta di fuggire. Continuavano a truccare le partite. Il giornale commessi da 9.000 euro. Le caste nascoste alla Camera sono il triplo degli onorevoli. Tra tecnici e stenografi c'è pure chi guadagna. Più di napolitano. Articolo 18. La Fornero licenza ai sindacati. Preoccupante il loro attacco. Doni in manette ma per me resta un grande. Scrive Vittorio Feltri. Il mondo non rimpiangerà. L'ultimo tiranno comunista. Corea del Nord. Muore Kim Jong-il. E poi il messaggero. Scontro. Governo sindacati. Articolo 18. Fornero accusa su di me parole preoccupanti. Il dibattito su licenziamenti. Confindustria. Riforma del lavoro senza tabù. Il dovere della verità. Maxi Blitz. Doni tra gli arrestati. Compravano ancora partite. Il tempo. Battaglia tra donne. Sull'articolo 18. Polemica sulla riforma del lavoro. Sindacato in piazza. Il governo va avanti. Camusso. Un'aggressione a lavoratori fatta da una signora. Fornero. Sono sorpresa. E poi Silvio chiama Bossi. Berlusconi sulla successione. Diseredo. Marina. Sessi Candida. La crociata della Lega contro Limu. Il resto del Carlino. Lavoro. Riforma al veleno. E poi fuori gioco. Calcio scommesso. Inchiesta bis. 17 arresti. Doni tenta la fuga. Preso. Morto Kim. L'ultimo dittatore stalinista. In Corea del Nord. La gazzetta dello sport. E continuavano a taroccare. Doni. Sartorre e altri 15 finiscono in manette. Sospetti anche su tre gare di Ade la scorsa stagione. Nuovi sviluppi nell'inchiesta di Cremona. E poi il Milan a Cagliari riprova il sorpasso. Stasera il recupero della prima giornata. La Juve su Borriello. In prestito a gennaio. Allegri frena Berlusconi. Il titolo principale è il Corriere dello Sport. La Torna in campo. Oggi due anticipi. E poi Doni Sciocca arrestato con altri quattro calciatori. Scommesse nuovo ciclone. La procura di Cremona smaschera un'organizzazione. internazionale. 17 ordini di cattura. Il capitano dell'Atalanta tenta di scappare. È tutto per quello che riguarda la rassegna stampa. Adesso nuovamente linea la regia. E poi sarà a ruota libera con Gustavo Bruno. A ruota libera anno terzo. Buongiorno. A ruota libera quasi con le catene. Puntata pre-natalizia. Numero 15. Poi ci sarà la post-natalizia. Post-natalizia. Che sarà anche pre-capodale. Pre-capodale. Vediamo. E poi ci sarà quella del 2. Perché? Perché. Prima di tutto non si ferma. Non si ferma. È l'unica trasmissione che non fermiamo. Questo perché ovviamente bisogna continuare. Poi tutte le altre invece si fermeranno la prossima settimana. Ma noi manderemo ovviamente delle repliche. Non è che vi lasceremo senza trasmissioni. Conosci uno psicologo? Eh sì. Ce l'hai sotto mano? Sì, più di uno. Uno bravo? Uno bravo. Uno bravo perché serve? Eh serve, serve, serve. Serve. Potrei anche immaginare perché. La sindrome della sconfitta è pesante. Quella è stata clamorosa. Comunque voglio dire che poi quel gran signore di Impaloni si sia lamentato dell'ambiente ostile. Dopo pasto, amici miei. Dopo pasto. Dopo pasto. Ah, dopo pasto dal punto di vista geografico. Se è geografico è tutto così. Beh sì, è difficile comunque lavorare in quelle condizioni. Soprattutto per chi magari non è abituato a andare in panchina sa di dover affrontare. No, ma per chi è abituato qui a stare controllato, digos, forze speciali, servizi segreti, polizia, forestale, carabinieri, vigilantes, steward, personale società. Quinta flotta a distanza del Pacifico. Addirittura. La banda dei marini, la banda di forcella che domenica ha fatto in giro la città. Vai giù e trovi solo due steward che dovrebbero controllare. Mi hanno raccontato cose turche. Voi umani e quindi... Mi hanno raccontato che avevano gente sul tavolo lì che urlava, che sbraccava. Di che cosa ci meravigliamo. Vi ricordate cosa successe qualche anno fa? No, vi ricordate Casal di Principe? No, bravo, non solo, ma anche a Teramo. Quando il Roseto Basket riuscì a vincere il derby, ci sono delle foto anche dove sono indegnamente rappresentato. Mi stanno camminando sopra i tavoli, quindi una volta è successo anche qui al nostro palazzetto. Quindi la cultura dello sport in certe zone non c'è, non è cultura, ma è così, è all'arribaggio. Quindi di che cosa ci meravigliamo? Io posso raccontare un aneddoto personale? Una volta a Catanzaro, dopo Vasto, a Catanzaro, tribuna stampa dello stadio di Catanzaro, il stadio che ha fatto la Serie A, tribuna stampa enorme, c'era una cabina lunghissima, con quasi tutti i posti vuoti, perché in C2 era quell'anno, quindi figurati quanti giornalisti c'erano. Io mi sistemai in un posto dove la partita si vedeva bene. Arriva un signore che mi disse, qui non ci puoi stare, ti devi mettere là perché sei ospite. Cioè mi misero in una postazione dove c'era un palo davanti e non vedevo niente. C'erano tutti gli altri posti liberi. E' un classico. Mi sono guardato bene lo spostato. Ovviamente, è un classico. E' andata male anche nel calcio. E' andata male anche nel calcio, vabbè, ma ci può stare. Più che un Barcellona ho visto in televisione un piccolo Barcellona. Nel senso che credo che il Teramo non sia stato all'altezza della gara importante. Probabilmente meglio preparata dai 12 che da noi, ma credo che non ci siano i motivi per stracciarsi i capelli, perché insomma il vantaggio c'è. Si ricomincia da una trasferta delicata a Civitanova, però insomma il campionato... Però possiamo dire che poi in due partite, Ancona e Civitanova, ci togliamo subito due gare delicate. Esatto, delicate. E quindi si ricomincia con grande speranza. La sosta credo che sia arrivata al punto giusto, perché qualcuno ha bisogno di tirare il fiato. C'è anche da aggiungere un'altra chiave di lettura, che è questa, che ormai ci conoscono tutti. Sanno le nostre fonti di gioco, sanno come manovriano. E quindi è chiaro che il giorno di torno ci sarà un po' più da soffrire. Anche il Barcellona lo conosco, ma noi siamo un piccolo Barcellona, quindi non cresceremo durante la soffra. Intanto avremo un anno in più, 2012, e quindi... Bisestile, la fine del mondo, i Maia... Quello che mi meraviglia è che qualche veggente aquilano non ha previsto che a Torricella, un paese bellissimo a cui sono molto affezionato, sarebbe diventato il punto nevralgico di queste nuove scosse che sono tornate a tormentarci. Ah già, quello è... Ci vuole il veggente terramo. Ah, ho capito. No, io mi aspettavo, ci sta uno molto bravo che riesce a prevedere tutto, stavolta non ha fatto niente. Senti, preoccupa, no? Io quelle 22 non le ho sentite, dico la verità. Ormai l'ho messo in memoria, insomma, perché si sentiva anche prima. Ricordo che durante un passaggio di proprietà del Teramo, eravamo sotto la farmacia Crocetta, arrivò una briscola da Ascoli, una briscola di terremoto che qualcuno lesse come un segnale negativo. Quindi voglio dire, ci dobbiamo convivere perché siamo in una zona sismica e quindi speriamo di sopravvivere, insomma. Convivere e sopravvivere. Però non pensiamoci. A proposito, discosse. Ieri grande parata, finalmente ho rivisto un nastro tricolore che è stato tagliato, grande gente, tutti ex funzionari della ULS, azienda sanitaria, che sono tornati per questa mega inaugurazione. Ho visto un governatore agguerrito, polemicamente caricato, mi fa piacere perché dopo averne lette tante... C'erano tutti? C'erano tutti, tutti. L'occasione era importante. Sembrava un mini congresso dell'ex PLI, capito? PLI, Partito Liberale. Partito Liberale. Però c'è una grande festa, grande struttura, ringrazio Tanzi e il dottor Varassi che me l'hanno fatta visitare. Bella cosa, serve, sicuramente serve per terra, speriamo di non doverla utilizzare perché quando si va su non è che si va per cose allegre. Ma c'è un interrogativo, stamattina il parcheggio era chiuso. Ahia! Come mai? Ah non lo so. Come mai? Sette e un quarto sono passato sbarrato. Come mai il parcheggio che da oggi doveva essere aperto gratis fino a fine dicembre? Forse bisogna prendere lo stesso. No, 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 era proprio sbarrato, proprio sbarrato. C'erano i cavalli di Frisa, i recinti. Come mai? Come in Normandia i cavalli di Frisa. Allora ieri è stata l'inaugurazione soltanto televisiva. Ma no, da oggi è operativo. E vi dico che alle 7.14 il parcheggio era chiuso, sbarrato. Ma non con le sbarre tipo passaggiero, proprio fisicamente chiuso. Come mai? Qualcuno ce l'ho a dire. Forse manca qualche permesso. Ma vedremo. Vedremo, ci informeremo. Io comunque le 7.14 l'ho passato ed era chiuso. C'erano le macchine fuori in attesa, ma se quello è aperto 24 su 24, alle 7.15 deve essere aperto. E' aperto 24 ore su 24? Sicuro? Sì, sì, ho chiesto. Mi ha detto l'ingegnere Tanzi, 60 telecamere. 60 telecamere. Controllano tutto. Peggio di Sky. Peggio di Sky. Grande monitor, sanno tutto appena in. E poi c'è un costo molto interessante. Cioè il ticket che uno prende per pagare i 70 centesimi, già polemica. 70 centesimi. E' collegato con la targa. Quindi non è che tu prendi il ticket, entri, casualmente trovi un'altra macchina e esci. Perché quando esce la sbara non si alza perché c'è un controllo doppio fra ticket e targa. Quindi un motivo più di sicurezza. Quindi Gianni Tanzi mi ha anche detto che non è vero che ci sono delle camere cinesi in giro. Perché se qualche telecamera non è entrata in funzione è perché il comune non aveva pensato a erogare il costo della manutenzione. Quindi quando c'è qualcosa che non va, dietro c'è sempre un'altra storia. Un mancato pagamento, un ritardo a pagamento e quindi le manutenzioni. Senti, io poi ne parlerò con il Vescovo. L'altro giorno ho fatto, ci sono dei messaggi. Buongiorno direttore, ma come può essere permesso leggere tutti i giornali locali in tv? Ma mai pensato a quante copie di giornali non si vendono per la sua rassegna stampa? Poveri edicolanti. Beh, vabbè, la rassegna stampa e la rassegna stampa. Si fa, anzi, sono gli stessi giornali che ce lo chiedono. Che ce lo chiedono. Ma poi si fa anche a livello nazionale, insomma. Si fa a livello nazionale, ma poi l'invito è quello a leggere gli articoli. Osiamo scarsi, osiamo dei polli. Basta con le figure barbine. Non ci teniamo in piedi, altrimenti non si spiega un parziale di 40 a 10 in 8 minuti. Invece di mandare via Ramagli, cambiamo Mazza Ufo e Faragalli. Vabbè, cambiamo tutti. Siamo alla resa dei conti. Allora, ti stavo dicendo che l'altro giorno ho fatto un po' Gustavo Bruno. Cioè, mi sono trovato, uscendo dalla messa al Duomo, circondato da bancarelle, furgoni. Era un assedio, era forte a pasci il vino. E ho fatto delle riprese col telefonino e poi ieri ci ho fatto un pezzo. E' una vergogna. L'ho detto in tempi non sospetti, che un turista che usciva dopo aver seguito, ascoltato la Santa Messa, si è ritrovato dentro un gabbiotto che usano questi del mercato per fare le prove. Tu sai che c'è quel gabbiotto, quel cubo, con le tende, si è ritrovato lì dentro. Io credo che, al di là di essere vecchi tromboni o frequentatori di sacristie, quello è un luogo sagro che va tutelato. La domanda è questa. Se fosse un monumento dei musulmani, permetterebbero lo stesso all'intorno di avere queste bancarelle? Tagli di mani, tagli di teste. E allora io credo che, al di là della carità cristiana, del fatto di borgere l'altra guancia, la curia, per esso il suo capo, debba farsi sentire. Perché non è più possibile continuare così. Caro Gustavo, tu che lavori in federazione, che pensi del pasticcio a livello nazionale delle partite combinate, io vado allo stadio perché mi piace lo sport e non voglio credere alle voci che qui vicino domenica sia successa una cosa del genere. Sì, anche io ho sentito, ma non credo perché sia successo. No, non è una cosa, forse più qualcosa in campo. Sì, bravo. Perché i nuovi tesseramenti, le società grandi le vanno a fare direttamente con le macchine presso l'ufficio tesseramenti. Quindi non credo che una società gloriosa abbia trovato la classica buccia di banana su cui scivolare. Per quanto riguarda il gran pasticcio, è vergognoso, insomma, quello che sta succedendo. Quando pensi che ci sono compensi di natura economica che fa paura, e poi vedi che ci sono questi personaggi che entrano nelle sedi di ritiro, con le borse piene di 200 mila euro, dividono già prima dalla scommessa. Quindi è una brutta storia che fa male a chi, come Ancona, è stato sotto l'acqua, a chi fa dei sacrifici per seguire la squadra del cuore, e fa perdere anche quel pizzico di fiducia che è rimasta, in quanti ancora credono che il calcio resti ancora un gioco meraviglioso. Però, insomma, dietro il pallone ci sono troppi interessi che lo stanno facendo, rischiano veramente di farlo scoppiare. Il mondo non è dei furbi, non dovrebbe essere dei furbi. In un'area privata c'è una quercia enorme che mette in pericolo la mia abitazione. Chi posso chiamare per verificare la tenuta a norma mai stata potata? La forestale. La forestale, bisogna chiamare la forestale. Spiegare quali problemi, o fanno loro o danno delle indicazioni. Buongiorno, vorrei sapere se è possibile che criterio è stato adottato dal Comune per accorpare le scuole della nostra città. Allora, il criterio è molto semplice. C'è una legge Germini che non è stata abrogata, che doveva essere osservata. E quindi c'è stato un tavolo di concertazione fra Comune e Provincia e il responsabile dell'ufficio scolastico, e si è presciuto a questo accorpamento. Ma al di là delle polemiche che sono state, secondo me, alimentate, perché qualche preside perderà il posto, ma potrebbe benissimo recuperarlo in qualche altro accorpamento, il problema è uno solo, è che la scuola elementare oppure la scuola media deve tornare a essere una palestra di educazione e di studio. Quindi vengono gli accorpamenti se servono a far migliorare il grado di cultura e di studio dei ragazzi. Perché la scuola deve tornare a essere quella che era una volta quando si andava a scuola col green blue e col fiocco bianco e si era allineati e coperti, non come oggi, dove nessuno rispetta più le regole. Io non andavo col fiocco bianco, io andavo col grembiule nero e il fiocco azzurro, ma non per fede calcistica, ma perché quello... Io andavo col grembiulone perché già allora avevo problemi di dire, quindi voglio dire... Direttore, buongiorno, grazie per il servizio che rendete con la rassegna stampa, ci sono posti tipo Pietracamela dove i giornali non arrivano e con il suo servizio almeno riesce a sapere cosa accade in provincia. Ecco l'altra faccia della medaglia. Dicevi? E quindi, al di là dell'accorpamento, ripeto che qualche paese non ha gradito per scopi soltanto personali. Io credo che sia stata un'operazione fatta veramente con criterio, perché per esempio l'abbinamento Lucidi e Zippilli sia un abbinamento importante, fra due scuole importanti, che poi la legge Gelmini, a lungo contestata, prevedeva che bisognava tagliare e quindi da sei passare a cinque, e questa è una legge dello Stato, quindi bisognava per forza farlo. Io ribadisco il concetto, la scuola deve tornare a essere la scuola palestra di cultura e quindi benvengano se gli accorpamenti servono per far maturare ancora di più e far diventare uomini i nostri scolari, che devono riprendere il senso della scolarizzazione, perché ultimamente questo senso, anche civico, è stato perso. Quindi la forza di una nazione riparte dalla scuola. Ti risulta che a Pietracamena non arrivino i giornali? Non arrivano, non arrivano perché... Grave. Ma questo è un problema vecchissimo. Io mi ricordo che quando eravamo al Fietro Recchi Lunga andavamo io e lui la mattina alle cinque e facciamo il giro di tutti i paesi di montagna portando i giornali. Facevi il giornalista e il giornalaio? Il giornalaio. Come molti... Bravo, il giornalaio ormai. Ed era un giro lunghissimo perché si cominciava da circuito Fanadriano, Nerito, Crognaneto e si scendeva fino a Montorio. Quindi era un giro di due o tre ore ed era veramente... era un servizio che si dava però adesso non si fa più perché fra copie vendute e ricavi veramente ci sta poco dare. E sono calate le vendite dei giornali. E poi anche perché mandare una macchina su aveva un costo. E adesso si fa invece con i pullman con le rispedizioni però quando arriva su il pullman se lo porta una volta si faceva insomma con l'Istituto Nazionale dei Trasporti l'ARPA non so se fa ancora questo servizio di rispedizione il giornale arrivano in mezzo alle 10 quando ormai già la giornata è finita e poi su di questi tempi se non nevica la frequenza l'utenza insomma è ridotta al minimo come tutti purtroppo i paesi. Ma come è che per due gocce di pioggia a Villa Mosca va via la luce fuori Lampioni? Fosse soltanto Villa Mosca. Fosse solo Villa Mosca ma non solo per due gocce di pioggia. C'è questo centro storico che ultimamente mi dà il senso di abbandono. Ahia! Anche il centro storico. Anche il centro storico. La periferia è così, le frazioni è così. E' come se ci fosse un momento di grande difficoltà innegabilmente c'è perché i contributi e i soldi non ci sono insomma per dirle. Però vedono stato di abbandono non solo l'illuminazione il fondo stradale via Muzzi che sprofonda nessuno che rispetti i segnali parcheggi dovunque statue e blocchi di cemento spostati quei mammozzoni di cemento collegati fra di loro con le catene spostati servivano per delimitare il passaggio pedonale non ci si capisce più niente. piazze stravolte il giorno del mercato di San Berardo le macchine che continuavano ad entrare intorno col mercato pieno qualcosa insomma di non dico da terzo mondo ma insomma di di una città in abbandono. Non solo proprio quando è stato nominato è stato investito il vigile quotidiano si è fatto male. Ahia! Chiamatimi Oscarino Massimi si è fatto male al menisco e quindi gira con un cocomero al posto del ginocchio. Quindi voglio dire siamo anche sfortunati perché una volta che viene creata una figura che avrebbe potuto risolvere tante questioni si è fatto male il vigile Massimi e quindi adesso dovrà essere sostituito. A proposito di vigili mi piace sottolineare una notizia che diventerà ufficiale il 6 gennaio sono state ritrovate tu sai che quando si trova roba rubata rubata non è perché dopo un periodo di tempo è inutile andarla se non viene richiesta subito diventa insomma patrimonio fra virgolette comunale. Ecco queste biciclette sono state accomodate messe di nuovo in funzione e saranno regalate ad alcune case famiglia di Teramo credo che sia una bella una bella iniziativa perché la bicicletta la storia mia della bicicletta ve l'ho raccontata per me e per un bambino rappresenta sempre un gioco nuovo anche se è vecchio è bello andare in bicicletta soprattutto dove queste famiglie si può riportare insomma un sorriso e la bicicletta giusto con quello scampanellare del campanello mi sembra che sia un'ottima idea quindi non solo multe a raffica ma anche gesti di solidarietà che mi premeva sottolineare. Beh questa è una bella cosa ci sono messaggi vediamo un po' Ah vedi un po'? Sì ci sono no non sono pronti ancora Aspettiamo va bene allora via Paris voi sapete che ce ne siamo interessati tanto dove sta quel grande steccone che serve per la salvaguardia dell'antico teatro romano c'era alla fine questa strada c'era un muro pericolante che dopo le nostre segnalazioni è stato messo in sicurezza ma quella parte finale proprio dove c'è il lampione che illumina appunto quella zona antica quella palazzina sarà ristrutturata e quindi anche quell'angolo che adesso non è bella vedersi subirà una manutenzione importante a propos di manutenzione avete notato che anche lungo il corso Cerulli una nuova palazzina è stata ristrutturata quindi c'è stata la scelta della mazzetta dei colori insomma è un bel vedere solo che a fianco c'è un palazzo cadente fatiscente e sabato mattina due persone hanno rischiato di essere investiti da calcinacci che per il forte vento si sono distaccati da questa facciata è un palazzo che secondo me l'amministrazione dovrebbe rivolgersi con maggiore attenzione farlo mettere in sicurezza oppure che ne so blindarlo con qualcosa come si fa nelle grandi città perché rappresenta un pericolo quotidiano e costante non ci traccia invece anche in quella zona di quell'altro palazzo che sta quasi di fronte a Piazza Verdi dove si era detto non fatiscente cade a pezzi è stato portato in consiglio è stato definito che bisogna fare un intervento di ristrutturazione edificando nuovi appartamenti però non se ne vede all'inizio anche qui insomma questo stato di abbandono non è bello per una città che è una bomboniera e che dovrebbe invece essere trattata un po' meglio soprattutto nel centro nel centro storico oggi comunque pare che in consiglio comunale vada non vorrei andare oltre perché mi è arrivata questa notizia vada una proposta di togliere i furgoni o parte del mercato si era detto del 20 che bisognava fare il mercato va ristrutturato fermo restando che ci sono gli interessi anche dei privati che pagano come ho detto per poter mettere il banco però vedere tutti quei furgoni è anche una questione di sicurezza quindi ripeto il centro storico va rivisitato anche sotto questo aspetto perché si vedono furgoni parcheggiati accanto alla spalletta del Duomo appena ristrutturato poi se qualcuno la urta arrivano tutti e dicono non doveva succedere prenderemo provvedimenti faremo questo e poi non si è fatto nulla e tornando al fatto del centro storico per esempio e lo ribadisco ma non perché perché è necessario che qualcuno intervenga dopo la banca di Spoleto salendo via Savini lato destro dove ci sono tutte quelle banche insomma c'è un'area che è in completo abbandono è recintata mai abbandonata siccome alla fine della strada dopo tanti anni di attesa sta sorgendo un nuovo palazzo io credo che quel pezzo di marciabiede e quindi di terreno privato che è tutto scoperto pieno di erbacci dove è diventato trasformato in piattaforma per raccolta del pattume insomma debba essere messo in sicurezza perché rappresenta un pericolo e poi è brutto vedere un porticato che viene interrotto da un pezzo di plastica perché oltre questa plastica c'è un chiave cut si diceva una volta che cosa? un chiave cut cioè un pezzo che cosa sarebbe? sarebbe che vi posso dire un burrone un burrone di un paio di metri una piccola scarpata una scarpata scoperta dove ci sono tubature che si vedono erba non tagliata alberi non potati e poi buste di spazzatura quindi cosa cosa occorrerebbe se non diciamo una tavolata non imbandita ma tavole per mettere in sicurezza quell'azione hai detto quel messaggio? no multiarraffica multiarraffica non è che dipende dal mancato introito dei passi carrabili? ma come ieri è stato detto insomma anche dal direttore Varrasi che in effetti c'è stato un momento di grande crisi perché soprattutto le strade che conducevano al punto soccorso erano piene di macchine parcheggiate in maniera non ufficiale quindi c'è stata questa richiesta da parte del 118 dalla stradale dei carabinieri e dei vigili urbani per farle intervenire a rilevare queste multe io credo che il giorno che questo maxiparcheggio funzionerà perché stamattina non funzionava era chiuso il problema verrà risolto però anche qualche dubbio perché insomma la città è circondata da maxiparcheggi però non vengono utilizzati quello di piazzarante va a 30% 20% gli altri due lo stesso non dimentichiamo che sotto San Francesco ci sono dei piani interi non utilizzati e quindi sbarrati perché la gente non ci parcheggia adesso che poi il costo magari sia eccessivo che le famose combinazioni non sono state ancora definite che 70 centesimi per un'ora magari è troppo che i dipendenti dovrebbero avere un trattamento diverso è tutto è tutto vero è tutto possibile ma se non ci si siede intorno a un tavolo e si prende un'iniziativa definita e precisa io credo che la situazione non migliorerà invece è importante che si torni a utilizzare il parcheggio perché almeno si sta tranquilli si sa dove uno lascia la macchina e dove la ritrova perché ultimamente il servizio di mozione ha lavorato alla grande e quindi quando c'è una rimozione puoi andarla a pagare insomma altro dei 70 centesimi allora quindi anche sotto questo aspetto la città deve crescere e con essi i suoi amministratori buongiorno buongiorno che vergogna far pagare i parcheggi dell'ospedale ma chi fa assistenza per tutta la notte quanto spende e questa è una bella domanda questa è una bella domanda io infatti ho detto speriamo di non usarlo mai perché chi va su insomma però è anche però è una parte di parcheggio libero resta no viene tutto bloccato a meno ieri è stato detto che quelli liberi vengono tutti cancellati in una prima fase saranno riservati soltanto al personale che lavora in ospedale poi saranno tutti quanti disattivati per costringere fra virgolette ad andare a parcheggiare in effetti e chi va a fare assistenza la notte come fa? e quello è un problema intanto quando la struttura sarà finita ci saranno altre altre camere da poter usufruire a pagamento ovviamente per chi fa la notte insomma quindi credo che sotto questo aspetto chi ha un malato da assistere abbia anche bisogno di stare a 100 metri dove potessi distendere e farsi un solo ristoratore se è il caso di farlo però è chiaro che se uno fa una notte intera là è chiaro che deve pagare insomma bei soldi io non lo so se sarà possibile poi per le lunghe degenze fare un tipo di convenzione certo insomma che oggi ammalarsi è un lusso se non ci sono se non c'hai un bancomat insomma è brutto dire queste cose però siamo arrivati a un punto in cui senza soldi è difficile anche farsi misurare la febbre è un problema che se uno non tocca con mano non se ne rende conto però il messaggio mi sembra alzettato giusto su cui anche meditare con calma e con rispetto della salute degli altri insomma perché tanto è una ruota soprattutto è un messaggio che potrebbe dare spunto a qualche riflessione e magari anche a qualche decisione magari impopolare ma importante insomma che sia di aiuto per chi va su in un momento di sofferenza a meno che non venga fuori sempre il solito furbo che diceva da fare l'assistenza l'assistenza perché poi è questo il rischio che corriamo siamo italiani anche sotto questo aspetto tornando all'impressione che ho ricavato frequentando il centro storico tante mattonelle frantumate via Mario Capuani parallelo del corso mattonelle frantumate piazza Martri mattonelle frantumate via Vittorio Veneto non ne parliamo quindi insomma sono stati spesi i soldi della comunità per rifare la pavimentazione però tutta sgranata perché perché se continuiamo a far entrare il centro storico i mezzi pesanti stamattina ne era uno fermo dietro il Duomo se teccolo qua mori parte il leone se si continua a far entrare il mezzo pesante lo stesso mezzo pesante che si è portato via diciamo le fioriere che delimitano la ZDATL davanti all'ACI questo è passato siccome era chiuso si è portato via tutto quindi vuol dire questo centro storico insomma va ripreso il dominio del centro storico mettendosi anche al rapporto con i commercianti e chiedendo loro una decisione definita definitiva però come si fa allora un anno fa un anno fa dopo l'abbattimento del leone e della spalletta del Duomo fu detto dal sindaco di Teramo c'eravamo quella mattina c'eravamo eravamo lì c'è la registrazione possiamo risentirla fu detto non entreranno più nel centro storico i mezzi pesanti non è vero creeremo un'area di una piattaforma di smaltimento dove verranno distribuite le merci e tutti potranno andare con mezzi più leggeri non è vero è passato un anno un anno quasi 365 giorni non è cambiato niente e non è cambiato nulla i mezzi pesanti continuano ad entrare all'interno del centro storico continuano a parcheggiare nei pressi del Duomo continuano a fare manovra all'interno del centro storico e questo viene notato da tutti ovviamente anche fastidioso no fastidioso perché io capisco insomma il negoziante deve essere anche rifornito e quant'altro è legato al commercio però insomma non è possibile che in due corsi in tre corsi che sono antichi e storici ogni mattina ci sia questa lunga processione di telati furgoni furgonapi vespe e quant'altro che entrano insomma per fare carico e scarico ma fossero le vespe solo va bene per dire insomma per dare un sorriso però voglio insomma mi sembra abbastanza potete per favore ricordare al comune che oltre alle apparenze ci sono le buche nelle strade i pedoni non possono camminare è pericoloso Gabriella l'abbiamo appena detto non solo è pericoloso ma siccome ci sono rialzi della pavimentazione uno dovrebbe essere dotato di sensori che segnalano evidenti rialzi di pavimento insomma c'è gente che è caduta e si è fatta male perché la pavimentazione lascia molto a desiderare quindi si tratta invece di spendere soldi per poi intervenire e quindi comunque le mattonelle vanno cambiando di mettersi intorno a un tavolo e vedere di sistemarlo ma per bene e per sempre il carico e scarico io non per fare il saccente ma negli anni 74-75 io allora lavoravo nelle Marche Pesaro si entrava con i carrelli gommati per carico e scarico Pesaro era già chiuso al carico e scarico dalla mattina alle 7 e si girava o a piedi o in bicicletta è chiaro però che Pesaro insomma è tutto falso piano per cui insomma era facile andare in bicicletta ma già allora negli anni 70 il carico e scarico era proibito anche perché a te erano un monumento al di là dell'anfiteatro e del teatro umano che non si vedono più un monumento il Duomo se non rispettiamo nemmeno quello non dico chi non vuole come luogo di culto ma come monumento vediamo buongiorno sapreste dirmi se la commissione comunale per il bando degli errori materiali si sia riunita se no quando lo farà grazie? errori del bando quale bando dei concorsi il bando degli errori materiali no non ne so non ne sappiamo non ne sappiamo tutte le commissione non possiamo va bene siamo arrivati alla fine dello spazio di Gustavo il momento degli auguri di Natale prima dare un'altra comunicazione poi chiedi che cosa c'è dietro mi fa piacere che la parrocchia di San Pietro di Isola sia tornata in mano a Dolenzo Chiarini questo nostro prete missionario che va in Burundi un amico di Teleponte esatto siamo in attesa da luglio del ripristino del servizio urbano Gammarana San Berardo obbligati ad usare l'auto era stato promesso ce n'era un altro l'abbiamo intravisto e chi ci lavora ai negozi dell'ospedale dai dipendenti del comune pago 25 euro al mese non ho problemi da dipendere pertanto non bisogna lamentarsi se poi il vigile lui paga allora dicevi di Don Enzo Chiarini è tornato a gestire la parrocchia San Pietro di Isola credo che sia un segno importante perché la sua carriera tra virgolette ecclesiastica o ecclesiale partirà lì quindi essere tornato su mi sembra importante anche perché era una parrocchia in anni particolari che ha rappresentato un punto di ritrovo per molti terramani quindi sono contento che sia tornato adesso come farà a fare il parroco a San Pietro e andare in Burundi questo insomma è un bel punto interrogativo però siccome c'è il parroco al missionario però siccome c'è il sette spirit come si dice sicuramente riuscirà a fare bene buon Natale a tutti ci vediamo Citrosidina permettendo subito dopo Natale il 27 il martedì 27 perché poi si gioca la sera la sera si gioca l'isodolori 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 Allora siamo a 5 giorni dal Natale e allora buongiorno al Vescovo di Teramo e Atri Monsignor Michele Seccia perché ovviamente un messaggio natalizio alla città va dato utilizzando gli schermi di Teleponte ieri è stata la festa del Patrono partiamo da ieri la festa di San Berardo celebrata il 19 dicembre quest'anno perché ovviamente non c'era la donna è lunedì di mezzo eccellenza una processione anche quella che ha accompagnato la reliquia del Santo Patrono molto partecipata ieri ho visto sì ieri ho notato anche l'aumento un po' delle persone nonostante la temperatura un po' rigida dei fedeli che hanno seguito questo momento direi devozionale di ritorno delle reliquie di San Berardo nell'antica cattedrale di Sant'Ana dove c'è l'ascolto anzitutto della biografia di Berardo vescovo a Prutino e poi la recita del credo a conferma della fede della comunità nell'invocare la protazione di questo Santo Vescovo del Patrono della città e di tutta la diocesi quindi è stato un bel momento sentito anche nella celebrazione eucaristica dove c'è stata la concelebrazione di tutti i sacerdoti teramani e al mattino anche questo è un segnale che abbiamo iniziato da qualche anno c'è la concelebrazione di tutti i sacerdoti della diocesi proprio per indicare il senso del Patrono come momento della unità della Chiesa ecco di una comunione ecclesiale a proposito di San Berardo a proposito del Duomo io alla regia chiederei di preparare un servizio che abbiamo mandato nel corso del telegiornale di ieri perché ne abbiamo parlato poco fa con Gustavo Bruno ho fatto delle riprese domenica mattina c'era questa fiera di San Berardo definita così io pregherei la regia di mandarle in onda di farla vedere al vescovo questo servizio e poi due parole le diremo e poi parleremo ovviamente del Natale se dalla regia siamo pronti no non siamo pronti allora recuperiamo il servizio perché domenica c'è stata questa fiera che ha un po' assediato il Duomo di Teramo Duomo Catternico di Teramo l'abbiamo recuperato? no c'è ancora qualche secondo nel frattempo il servizio infatti mandiamo mandiamo il servizio il servizio che è andato ieri al telegiornale nel frattempo lei ieri ha concluso la marcia di avvicinamento al Santo Natale con l'Alexio Divina che si è sviluppata per tutto il periodo dell'avvento quattro lunedì quattro lunedì di avvento e la riprenderemo il primo lunedì di quaresima sì la scelta di andare a leggere a commentare e a spiegare il Vangelo di Marco che non è poi il Vangelo che si legge la domenica sì sì perché Luca mi sembra che si legge no allora essendo Marco il Vangelo più corto di tutti sì allora per poter coprire tutti i tempi dell'anno anche le feste solenni per esempio Marco ha la sua caratteristica che inizia subito il racconto evangelico con l'attività pubblica di Gesù salta completamente i Vangeli dell'infanzia e poi parleremo anche di questo cioè di quali Vangeli ecco queste sono le immagini io volevo mandare il servizio del telegiornale allora cosa come possiamo commentare queste queste immagini io preferisco non commentare quella è la spalletta del Duomo con Leone che è stata abbattuta preferisco non commentare perché pur con tutta la comprensione per queste persone che lavorano che pure devono vivere e quindi per carità non dobbiamo toccare perciò dico con tutta la comprensione ci deve essere un minimo per la salvaguardia dei monumenti il rispetto il rispetto della perché se questo è per un motivo di lavoro io l'unico appello che mi sento di fare lo rivolgo in modo particolare a quanti non dico i giovani in genere a quanti ecco usano le scale della cattedrale da una parte all'altra mi si consenta il termine non solo come sedili sarebbe il minimo e anche piacevole ma come luogo di spazzatura e questo non è decente non è decente lasciare una mattina mi sono trovato proprio di domenica a passare alle sette e mezzo sembrava sai il tiro al bersaglio quando vengono durante le feste patronali che c'è il tirassegno tutte queste bottiglie in piedi non è decoroso per la città per le persone per tutto oltre che il rispetto del tempio della casa del signore e di un monumento importantissimo per la città io ricordo sempre che stiamo parlando di una cattedrale di un Duomo del 1100 non stiamo parlando di qualcosa che ha mille anni quindi è qualcosa di vergognoso io dico vergognoso perché è vergognoso e poi l'interrogativo che ha posto Gustavo Bruno prima non è di poco conto potrebbe accadere una cosa del genere intorno ad una moschea ha chiesto Gustavo no taglierebbero mani piedi teste eccetera la differenza tra noi e chi in altri paesi del mondo applica una regola più rigida è questa però quantomeno qui non si tagliano mani piedi e teste però quantomeno rispettiamo rispettiamo dei luoghi di culto perché poi quando si danneggia la spalletta del Duomo si dice signori faremo prenderemo provvedimenti sposteremo puniremo eccetera poi si continua peggio di prima evitiamo queste casbe è vero è vero pensiamo al Natale allora lei prima ha detto il Vangelo di Marco che parte dalla vita pubblica di Gesù Cristo non sono tutti e quattro i Vangeli che parlano del Natale ne parla uno solo ne parlano in due in due sono Luca e Matteo Matteo e Luca e ci sono quei capitoli chiamati i Vangeli dell'infanzia è un blocco di episodi di racconti nella tradizione di Matteo appunto e di Luca che raccontano l'annunciazione dell'angelo accentuando l'aspetto mariano a Maria quello che abbiamo ascoltato proprio domenica scorsa l'annunciazione dell'angelo per Luca mentre il sogno di Giuseppe in Matteo perché invece il Vangelo quello famoso in quel tempo un editto di Cesare Augusto eccetera sì 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 è quello di Matteo è quello di Matteo ma perché questo perché anche dove è nato l'ambiente per il quale è stato scritto anche questo Vangelo che era un ambiente giudaico ebraico all'insegna della tradizione dei padri eccetera l'obiettivo dell'autore era di manifestare dimostrare quasi che la nascita di Cristo è all'insegna e quindi una risposta alle profezie che ci sono state nei secoli precedenti tanto è vero che il Vangelo di Matteo è quello che contiene il maggior numero di citazioni dirette di brani dell'Antico Testamento mentre Luca magari ne fa allusione sono minori le citazioni perché perché si rivolge ad un mondo greco greco romano e quindi che non ha molta conoscenza dell'Antico Testamento ecco perché si sviluppano queste due in modo diverso pur magari parlando degli stessi episodi i cosiddetti Vangeli Sinottici che prove abbiamo che quello del racconto di Matteo e di Luca siano racconti fedeli alla realtà perché ovviamente nessuno ha vissuto quei momenti sono notizie che si sono tramandate nel tempo le prove è la fede della comunità è la fede della comunità iniziale cioè degli apostoli che hanno trasmesso i racconti che hanno ascoltato da Gesù che hanno visto anche hanno ascoltato da Maria perché Maria non dimentichiamo è stata sia pure per tutto il periodo dei tre anni appartata tuttavia non Maria ha potuto vivere con gli apostoli infatti anche Luca nel libro degli atti degli apostoli ci racconta che Maria viveva con loro con gli apostoli dopo che Gesù è tornato al padre dopo l'ascensione dunque queste possono essere delle testimonianze queste sono le testimonianze poi sin dal dalla fine del primo secolo del secondo secolo abbiamo delle come dire dei testi che parlano di questi che sono testi vicini al mondo biblico in un momento come questo eccellenza in un momento difficile come questo dal punto di vista storico economico eccetera come si fa a dire buon Natale alle persone e soprattutto quale deve essere il messaggio natalizio io quest'anno per fare gli auguri di Natale ho scelto un brano una specie di poesia di Don Primo Mazzolari un parroco molto gli auguri che dà proprio la risposta a quello che tu stavi chiedendo gli auguri di Natale devono essere un augurio di speranza e come sto ripetendo in questi giorni non una speranza speriamo che domani ma una speranza certa che ha il suo fondamento proprio nella venuta di Cristo e io ho scelto questi auguri sia per un riferimento particolare che ora leggerò e cioè il tema del programma pastorale nella barca di Pietro insieme per me la barca è la nostra esistenza perché vuoi o non vuoi siamo tutti legati gli uni agli altri che cammina sul mare della storia e il mare della storia della vita dei problemi non è sempre tranquillo tu sei la nostra speranza o Cristo perché facendoti uomo hai legato la tua sorte alla nostra hai preso posto sulla nostra barca condividendone le vicende e accettandone i rischi ma talvolta ci pare signore che quasi non ti importi della traversata ma solo perché siamo uomini di poca fede e lo scoramento ci prende ai primi soffi di vento ci hai forse garantito un vivere tranquillo e prospero o un navigare col mare in bonaccia avrete molte tribolazioni per causa mia però confidate io ho vinto il mondo e le potenze del male non avranno sopravvento la tribolazione è la nostra condizione sulla terra è spesso il guadagno dei nostri errori se alla rotta da te indicata signore preferiamo la nostra capricciosa in consulta se perdiamo di vista il porto siamo noi che scateniamo il vento e il mare questo è il messaggio di Natale del Vescovo di Teramo io ringrazio anche per la dedica agli amici di Teleponte dove praticamente insieme a quello di Pasqua dell'anno scorso c'è un'analisi veramente bella cioè oggi noi ci lamentiamo di questa situazione ma è piovuta dal cielo questa situazione no bene allora assuniamoci le nostre responsabilità e per quanto è possibile non perdiamo la speranza e mi rendo conto che questa sembra essere una parola troppo consumata ma per me speranza significa ripartiamo da quelle capacità da quelle energie dalla creatività che ogni uomo ogni persona possiede facendo leva anche sulla solidarietà e non illudendoci che solo se c'è un benessere economico finanziario tutto può andare bene ci deve essere anzitutto il benessere etico della persona che comincia a distinguere tra ciò che mi piace ciò che mi fa comodo e ciò che è bene per me e per gli altri per gli altri e per me allora forse le cose possono cambiare ma fino a quando c'è un orientamento egoistico in tutto e addirittura diciamo tutto quello che si è verificato nell'ambito della finanza per esempio non ci si venga a dire che è necessario per il progresso quale tipo di progresso quello che continua ad aumentare la distanza tra chi è povero diventa sempre più povero e che il ricco deve diventare sempre più ricco o un atteggiamento che deve tendere sempre di più a quella equità sociale di cui ha parlato anche il presidente del governo e che non ancora si riesce a vedere completamente proprio nei confronti della famiglia nei confronti delle persone con handicap anziani e quant'altro è un momento di sofferenza e di disagio tutti dobbiamo prenderci la nostra parte però che sia equamente distribuita il periodo di avvento è iniziato con un con la lettura di un Vangelo particolare non vorrei sbagliarmi quella della pagina di Gesù in cui dice ero affamato e mi avete dato da mangiare la moltiplicazione ero forestiero e mi avete ospitato ero carcerato mi avete visitato oppure non mi avete visitato il Papa Domenica è stato in carcere a Re Bibbia a portare il suo messaggio di Natale ai carcerati è stato un momento toccante perché ci sono stati dei dei messaggi letti proprio dai detenuti oggi noi andremo al carcere di Castrogno noi di Teleponte a registrare la puntata di Natale del pranzo di Natale dei carcerati dei detenuti che si trovano al carcere di Castrogno abbiamo fatto un'altra puntata prima abbiamo visto la partecipazione di queste persone che veramente se uno pensa il perché stanno lì forse si ritrae ma poi quando tocca con mano il momento di umanità che c'è in quel momento allora forse trova la forza di realizzare altre cose noi oggi torneremo registreremo le puntate andranno in onda il giorno di Natale e il giorno di Capodanno oltre che al 26 di Dicembre il giorno di Santo Stefano lei proprio in quei giorni poi renderà visita ai detenuti il 26 e il 27 è un momento di vivere anche una pagina del Vangelo no quella di ero carcerato e siete venuti a trovare non è questione solo appunto di rendere visita ma di rendersi presente questa è un'esperienza che ho fatto già da tantissimi anni già quando ero nell'altra diocesi il carcere era molto più piccolo molto più praticabile anche diciamo per cui la mia presenza era molto più frequente ricordo che la prima messa a Natale al mattino Capodanno Pasqua era sempre con questa trentina di giovani erano erano lì ma anche qui a Teramo anche se non è un mistero il mio grande cruccio è di provvedere ad un cappellano instabile che arriverà che sta è già arrivato si sta preparando per cui quanto prima dopo avere atteso e pregato tanto è arrivato anche per Castrogno un cappellano a tempo pieno sarà uno dei trinitari che si trova sia a Villa Mosca una parrocchia a Teramo e che ovviamente sono in tre e possono così gestire un numero maggiore ci vuole pazienza come vedi arriviamo a risolvere un po' con l'aiuto di Dio ovviamente perché la divina provvidenza come dicono le suore di Casamarrester noi aspettiamo che la divina provvidenza e la divina provvidenza poi puntualmente provvede invece parliamo delle celebrazioni del Natale perché non me ne voglia lei mi dirà sicuramente che la Veglia Pasquale è forse il periodo più importante del cammino cristiano durante l'anno però la celebrazione che da sempre per lo meno per me ma penso anche per gli altri è più suggestiva è la messa di mezzanotte di Natale e anche a Pasqua sì lei dice anche Pasqua però il ricordo di tutti dei bambini è quando magari la nonna capitava così mia nonna mi portava alla messa di mezzanotte a Natale è un momento quello da vivere intensamente e fa parte della nostra fede c'è la suggestione proprio e della notte e dell'evento della nascita e del vociare dei pastori delle persone umili degli angeli in cielo cioè direi che c'è tutta una coreografia che tocca molto i nostri sentimenti ma che non ci deve fare dimenticare il mistero il presepe è nato da un momento intenso di contemplazione a Grecio da parte di San Francesco padre Pio quando era davanti al presepe piangeva ma piangeva ecco non per l'emozione o la commozione di tutto l'apparato ma per il mistero del Dio bambino di Dio che viene incontro all'uomo ecco che vi prende posto in mezzo a noi diventa uno di noi pur essendo diverso da noi e viene per insegnarci qualcosa per indicarci questa via della speranza della dignità della persona questo non essere ipocriti quello che leggevamo ieri sera no l'uomo con la mano paralizzata ci metti di mezzo lo devo guarire o non lo devo guarire oggi è sabato voi che ne dite e nessuno gli rispondeva e Marco usa un verbo terribile li guardava tutti intorno con indignazione e per la durezza del loro cuore stiamo attenti che se ci commuoviamo a Natale e il nostro cuore rimane insensibile e duro e che Natale allora lei celebrerà la notte del 24 in cattedrale a Teramo la mattina ad Atri e il pomeriggio alle 5 e mezzo in ospedale nel reparto di pediatria quest'anno quindi invece poi le celebrazioni al Duomo Catterale sono affidate a mezzogiorno al parroco quest'anno però adesso ci permetta c'è una novità c'è una novità perché perché noi di Teleponte abbiamo deciso grazie anche al permesso che ci ha concesso il Vescovo di Teramo di mandare in onda in diretta a mezzanotte la messa inizierà a mezzanotte giusto la messa di Natale quindi per tutti coloro che non possono uscire perché sono malati o sono anziani soprattutto per questo soprattutto per loro la messa di Natale seguita su Teleponte celebrata dal Vescovo di Teramo avrà valore nel senso che se sono impossibilitato ad uscire perché sono a letto con la febbre oppure sono malato e non posso andare oppure magari ho 90 anni è un invito è un invito alla preghiera è un invito alla preghiera noi sappiamo che la messa bisogna viverla personalmente con un coinvolgimento personale appunto perché c'è la presenza dell'eucaristia del corpo e del sangue di Cristo le letture uno le può sentire ma il momento ecco della comunione il momento della presenza reale va vissuto personalmente ci sono delle situazioni veramente di impossibilità e qui che noi capiamo anche il senso della legge della Chiesa come lo dicevo ieri sera come il discorso della legge del sabato il Signore si affida e ci affida sempre una grande libertà e responsabilità pur avendoci dati dei comandamenti ricorda sempre che i comandamenti sono per l'uomo non l'uomo in vista dei comandamenti perché se il comandamento punta al bene tu devi pensare come perseguire questo bene e che sia veramente tale e quindi per chi vorrà noi l'anno scorso abbiamo mandato in diretta la messa del Papa che ovviamente è irraiata anche dalla RAI quest'anno abbiamo pensato con uno sforzo enorme perché ovviamente far lavorare delle persone la notte di Natale è uno sforzo enorme ebbene abbiamo pensato di mandare ai Terramani la messa del Vescovo di Teramo ovviamente la catterrale sarà stracolma come al solito ci si augura che sia così almeno eccellenza e dunque però mi è sembrato che quest'anno ci sia una novità perché solitamente c'è la statua del Bambinello che viene scoperta a mezzanotte mi hanno detto che quest'anno lei entrerà anche l'anno scorso si porta processionalmente proprio la messa del Natale inizia con l'ingresso del celebrante di tutti i celebranti che portano il Cristo che nasce che è nato e quindi proprio in segno di ricordo di fede di adorazione da parte dei fedeli e viene deposto nel presepe quest'anno il Vangelo sarà quello di Luca? quest'anno il Vangelo di Luca bene quindi con questo annuncio col fatto che potrete seguire la messa di mezzanotte di Natale in diretta su Teleponte per chi non è a Terra ma anche in streaming perché ovviamente può essere seguita in tutto il mondo attraverso il nostro nuovo sito magari chi è all'estero può collegarsi e seguirsi la messa dal Duomo di Teramo io approfitto della presenza del Vescovo per fare io gli auguri di Natale al nome del nostro editore di tutta Teleponte al Vescovo di Teramo di Buon Natale grazie grazie anche a voi a tutti i telespettatori grazie anche per il servizio che si rende alla comunità nella comunicazione perché anche questo è importante ne ho parlato nella lettera pastorale pure per cui ecco la comunicazione deve servire alla crescita delle persone a formare una società che tende veramente a mettersi in rete ecco si parla di tutti quei problemi che stavate accennando prima ecco che non si diventino solo motivi di condendere motivi di contrapporsi cerchiamo piuttosto di operare tutti nell'unica direzione del bene comune saremo tutti più felici e a proposito di comunicazione diamo una mano anche all'araldo abruzzese grazie c'è bisogno il settimanale diocesano che va avanti tra mille difficoltà è necessario dare una mano a questa voce della diocesi di Teramo grazie grazie auguri a tutti buon Natale auguri a tutti prima di tutto torna domani solita ora alle ore 7 voi non perdete gli altri appuntamenti di Teleponte alle 12.30 Penne e Calamari puntata particolare condotta dall'Ino Nazionale questa sera alle 21 basket e basket oltre agli appuntamenti con i nostri notiziari buona giornata a tutti a tutti